Dieci casi di variante indiana sono stati segnalati nelle ultime ore a Brindisi e provincia. Per la precisione, nove a Brindisi e uno a San Vito dei Normanni. Dieci persone sono state dunque trovate positive alla variante indiana del Covid e sono attualmente sotto sorveglianza della ASL di Brindisi. Al momento non si sa come queste persone abbiano contratto il virus. È stata comunque aperta un'indagine a ritroso, controllando gli spostamenti e i contatti degli ultimi 14 giorni. Le dieci persone contagiate non avevano ancora fatto il vaccino. La variante indiana del Covid è differente da quella inglese e preoccupa perché è molto contagiosa, come conferma il dottor Stefano Termite. È una variante che ha una contagiosità molto più elevata rispetto alle varianti precedenti e anche perché stiamo riscontrando delle forme gravi anche in soggetti più giovani. Per cui è bene continuare con una grande lena come abbiamo fatto fino adesso con la vaccinazione perché vaccinando anche con la seconda dose ci si protegge nei confronti anche della variante indiana. Quindi è questo lo strumento più efficace e noi siamo contenti perché stiamo andando benissimo con la vaccinazione. Stiamo rispettando i target quantitativi giornalieri che ci dà la Regione Puglia e concludiamo tutte le dosi a disposizione entro la fornitura successiva. Quindi non ci rimane più vaccino a disposizione. Rischiando spesso però fino adesso ci è andata sempre bene perché abbiamo una continuità nella somministrazione. Grazie.